Oggi abbiamo vinto la Youth America's Cup e sono felicissimo per tutti quanti, la squadra e in primis anche per me perché è stato un obiettivo raggiunto in cui abbiamo lavorato tantissimo. È veramente una sensazione bellissima. Una finale match race botta secca, quindi mentalmente poteva essere difficile affrontarla perché poteva vanificare tutto il bene che avevamo fatto durante la settimana, però credo che siamo usciti in acqua molto tranquilli e alla fine siamo riusciti un po'. Credo che gli americani fossero un po' più sotto pressione rispetto a noi e poi abbiamo gestito benissimo la partenza e poi in generale tutta la regata, c'era vento forte e onda quindi non era per niente semplice, però sono contento per come l'abbiamo gestita.